Ciao ragazzi, buona domenica a tutti. Allora, oggi voglio fare l'unboxing del Ken della serie You Can Be Anything, esattamente Ken Calciatore. Allora, la scatola è molto semplice, abbiamo qua un artwork sulla parte in cartoncino con Barbie e Ken in tenuta da calcio, la scritta Barbie You Can Be Anything. Sul lato della scatola abbiamo uno sfondo di uno stadio da calcio e qua possiamo notare il logo di Barbie. Dietro ci mostra una panoramica del prodotto e la scritta che mi ha colpito molto che è giocando con Barbie ogni bambino, quindi non hanno messo bambina e Mattel si distingue sempre dagli altri perché è sempre un passo avanti in tutto e quindi questa cosa fa molto piacere perché finalmente hanno tolto quello stereotipo sessista. Inutile e qua ci mostra tutte le Barbie nella collezione, io ho questa 1, 2, 3 e 4, li ho già, alcuni mi pare di averli portati anche sul canale e poi ci sono questi altri. Allora, andiamo ad unboxare, l'unboxing è molto semplice perché non ci sono quei raccetti. Allora, il Ken è molto carino, questo è un altro mood che adoro, ha i capelli castani con questo bel ciuffo, viso fatto in questo modo, indosso una key short azzurra con questi motivi bianchi, ha lo stemma della sua squadra di calcio. Questo è il numero 10, apertura e chiusura in velcro, ha dei pantaloncini neri che sono lucidi con queste rifiniture di orli molto belli, dei calzettoni sempre neri dello stesso colore del pantaloncino e queste bellissime scarpe blu scuro, proprio da calcio. hanno anche le tacchette sotto e poi arriva con questo pallone, un classico pallone da calcio che dopo provvederò a rimuovere e quindi molto semplice ma carino. I movimenti del Ken sono sempre basici, basso, alto e verso l'esterno, quindi nulla da dire. è un Ken semplice ma che fa la sua bella figura, lui è molto carino quindi lo consiglio vivamente. Il video è stato molto veloce perché a me non piace divulgarmi come fanno tanti lagnosi tre ore per aprire perché se devi fare un cavolo di unboxing devi aprire e non parlare a bambera tre ore. Vi mando un bacione, vi auguro una magica e serena settimana, ci vediamo presto, ciao ciao!